L'ospite di oggi è Steve Bassett, uno dei primissimi lobbisti UFO registrati a Washington e capo del Paradigm Research Group. Nel 2020, in rapida successione, la legislazione è approvata. Marco Rubio approva una legge di base, firmata a dicembre 2020. Bene, si mette in moto. E poi, un anno dopo, viene approvata una seconda legge e firmata a dicembre 2021. E poi viene approvata una terza legge nel 2022, il 2023 Act. Bene, sta succedendo. Questo genera molto interesse, enormi quantità di media. E quindi c'è un gran movimento. Ci si sta muovendo verso quella linea di una yarda velocemente. Bene, e poi arriviamo al 2023. Tutti sanno che ci sarà una quarta legge. Sarà probabilmente grande. Non sanno ancora esattamente quali siano i dettagli, ma stanno aspettando. Giusto. Sanno che sta arrivando. E potrebbe essere il disegno di legge definitivo. Potrebbe essere il pezzo finale. Giusto. Ma prima che quella proposta di legge potesse essere presentata, David Grush fa la sua mossa. David Grush era conosciuto. Tutta la sua storia era ben nota all'intero governo. Era noto al Comitato Intel del Senato. Era noto all'Ispettore Generale. Era noto al DOD. Era ben noto. E in generale, era inattaccabile. Ma ciò non significava che non potevi molestarlo. Non significava che potevi arrabbiarti con lui. Non poteva significare che lo ritenevi un traditore e lo minacciavi. Ok, ma era risaputo. La mia comprensione è che stava lavorando con Ross Coltard già da un anno prima di fare l'intervista. E così, allo stesso tempo, stava cercando di risolvere i suoi problemi con l'Ispettore Generale ed ottenere di eliminare la pressione e le minacce su di lui. Quindi stava già pianificando possibilmente di rendere pubblica la cosa. Ok? E come? Immagino che potresti dire un whistleblower. Penso che si sia descritto così. È uno dei pochissimi veri whistleblower che ci sono in giro. E quindi questo va avanti per circa un anno e quasi nessuno che conosco lo sapeva. Io non lo sapevo. Ciò non significa che non ci fossero persone che non lo sapessero, ma nel complesso è stato tenuto ben stretto. Puoi capire il perché. E così, prima che il disegno di legge potesse essere presentato, il nuovo disegno di legge, Grush fa la sua mossa. Il tempismo è quello che è. Comunque, fa l'intervista con Ross Coulthard, in diretta, il 5 giugno dell'anno scorso. Sì. E l'articolo esce nel debriefing. Perché è stato programmato allora anziché più tardi? Chi lo sa. Ma succede. Il conto non era ancora stato annunciato. Va bene. E quindi questo è un evento enorme. Non c'è dubbio a riguardo. Va bene. Perché era la prima volta, davvero, che l'idea di extraterrestri, ora chiamata non umana, giusto, non umana, ok, è stata formalmente messa in gioco da un vero insider che era al lavoro. Penso che avesse appena lasciato la Task Force UAP. Ad un certo punto, aveva testimoniato alla AARO. E poi, ovviamente, finisce per ripetere sotto giuramento. Ma a partire da giugno, il 5, è essenzialmente la fuori e in gioco. È una cosa molto, molto importante. Ok, quindi questo ha fatto avanzare le cose abbastanza rapidamente. E la domanda era, cosa succederà dopo? Va bene. E così tutti trattengono il fiato perché, almeno io, rilascia questa cosa nel mixer. È enorme. A quanto pare, la Casa Bianca non sapeva che sarebbe successo, ma di certo non aveva detto nulla. La maggior parte del congresso potrebbe non averlo saputo. Il Dipartimento della Difesa deve averlo saputo, ma non ha detto nulla. E così, all'improvviso, eccolo lì. Voglio dire, sono sicuro che il DOD e tutti coloro che sono associati alla verità di Barbara speravano che cambiasse idea. Sai, è come... Sì, sai, pensai. Non farlo. Dave. Ma lui l'ha fatto. Lui rilascia questa cosa, creando un grosso problema per tutti. Perché? Perché nelle menti di un sacco di gente, compresi media, ha appena formalizzato la presenza di tecnologia non umana, corpi non umani. Ciò conferma essenzialmente Roswell. Conferma che non siamo soli. Ma l'ultimo pezzo di legislazione non era fatto, giusto? Non c'era ancora stata l'udienza che dovevamo avere. Non c'era stata nessuna udienza, giusto? Le piccole cose che erano successe prima non erano udienze. Erano briefing in cui qualcuno veniva chiamato sulla collina. Non c'era un'udienza dal 1968. Cosa diavolo succederà adesso? E quindi cosa è successo? È stato ovviamente aumentato il programma per un sacco di persone e alcune di queste persone erano nella Camera dei Rappresentanti. Quindi Tim Burchett, che ha parlato di questo problema, giusto, il che mi ha anche aiutato a promuovere il processo di divulgazione perché lui è un membro in carica della Camera dei Rappresentanti. Tim Burchett è stato molto aggressivo su questo argomento e è andato in diversi spettacoli. Ha colto la situazione e Grash immediatamente non appena ha potuto ottenere un'udienza, giusto, e così in un modo o nell'altro si è deciso che Grash sarebbe entrato e avrebbe testimoniato al sottocomitato di vigilanza che includeva Burchett, Mace e Luna, e Gaetz non era nel comitato, ma è entrato e ha messo i suoi due centesimi. Non so come sia successo. Un giorno speriamo che ci dicano chi ha parlato con chi e come è stato organizzato, ma credo che sia stato utile che siano riusciti a far partecipare Frevor e Graves. Quindi non è stato solo David, non era solo Grash seduto lì. Beh, avevano tipo undici o più testimoni, giusto, che avrebbero dovuto testimoniare. Ma Burchett ha detto che, sai, alcuni di loro si sono spaventati. È possibile. Ok, è molto probabile. Ma il fatto che ne abbiano presi almeno altri due è stato significativo. Molto utile. Ok. E probabilmente di più sarebbe stato un errore. Va bene. La penso così anch'io. E numero perfetto a dire il vero. Avrebbero diviso il loro tempo. Giusto. È questo che intendi? Voglio dire, senza mancare di rispetto, ma il percorso per la conferma del Presidente non sarebbe passato attraverso una sottocommissione della Camera. Ok. Non lo era. Non era quella la strada. Ma questo chiaramente sarebbe stato aiutare nella divulgazione del piccolo D. Ok. Perché quando fa Coming Out, quando fa Coming Out con Ross Coltart, quando rilascia le interviste che consentono l'articolo di debriefing di Blumenthal e Kane, questa è una rivelazione con la diminuscola. Non è vero. Altre informazioni. E così, quando decidono di avere quell'udienza, li portano e lui fornisce la stessa testimonianza sotto giuramento. Questa è un'altra piccola divulgazione, ma ha un impatto. Sta influenzando anche la divulgazione di grandi dimensioni. Ok. Ok. Quindi è successo. Boom. Ora questo è il 5 giugno. Quindi quello che è successo dopo è che Burchett si è riunito e ha messo insieme quella che era un'udienza molto importante, la prima dal 1968, e che alla fine si è tenuta il 26 luglio. Tuttavia, c'erano altre persone che avevano problemi qui. La Casa Bianca aveva un problema serio. La Casa Bianca era a rischio di essere coinvolta in tutto questo. In altre parole, cosa succederebbe se 18 giornalisti iniziassero a fare domande nella sala stampa della Casa Bianca? Corpi non umani, tecnologia non umana, sarebbe abbastanza interessante, ma non l'hanno fatto. Penso che ce ne fosse uno, Jean-Pierre. Sì, sì, perché la Casa Bianca non può entrare in questo adesso. Non possono entrare in questo. E quindi loro, probabilmente, stavano stringendo i pugni. Cosa succederà dopo? Ok, quindi anche il Senato. Ha avuto un problema, giusto? Quello che abbiamo sponsorizzato in tutta questa legislazione. Ne abbiamo un'altra in lavorazione. Questo tizio ha già fatto un passo falso. Ma è l'uomo che è arrivato per salvare la situazione, giusto? E passerà alla storia per questo. E il senatore Chuck Schumer. Il senatore Chuck Schumer, ovviamente, guarda l'intervista, legge l'articolo di debriefing. Lui è probabilmente consapevole. Sono sicuro che ha conoscenza del fatto che la sottocommissione della Camera e il Birch stanno organizzando un'udienza. Giusto. Quindi è informato, per certo, che ci sarà una sorta di udienza in arrivo. Ok. E questo ovviamente lo porterà a un altro livello, perché perché Grash entrerà e dirà tutto, giusto, di nuovo sotto giuramento. E ci sarà un sacco di gente a guardare. Quindi si muove in modo aggressivo. Quello che fa è che esce il 14 luglio, giusto, 39 giorni dopo la testimonianza di Grash, ma 12 giorni prima dell'udienza, che alla fine si è tenuta presso il comitato di vigilanza. E lui esce e annuncia che sarà a sostenere con Mike Rounds e altri la prossima legge e la fa annunciare prima dell'udienza alla Camera. Ok. Sì. E questo annuncio è una bomba. Voglio dire, stavo ascoltando e non riuscivo a credere al conto che lui e Rounds hanno messo insieme tra il tempo in cui Grash parla con Coltart in onda e 39 giorni dopo, quando lo annuncia. Sapevi che quell'annuncio sarebbe arrivato come legge e tutto il resto o l'emendamento. Sapevamo che ci sarebbe stato qualcosa, ma io non sapevo cosa fosse e quando e non sapevo che sarebbe stato quello. Quindi annunciò l'UAP Discloser Act. Non pensi, non pensi che io voglia sedermi con Chuck Schumer e dire, senatore, perché ha messo la Discloser nel titolo di quell'atto? Voglio dire, non poteva avere a che fare con qualcosa che ho detto o Steven Greer ha detto o qualcosa del genere. È interessante che la Discloser sia nel titolo. Ecco perché in realtà non ho mai pensato a questo. Molte persone hanno lavorato faticosamente per far entrare quel nome nella proposta di legge. È un buon punto. Quindi lui facendo così non è come un UFO, un'indagine o qualcosa del genere. Sai, è come no, no, nessuna Discloser. Hai ragione. È interessante. Quindi lui sta riconoscendo te, me e Ross Coltart. Sta riconoscendo James Fox. Sta riconoscendo tutti coloro che hanno perseguito la divulgazione della Piccola di in tutti questi anni. Che Dio lo benedica. Spero di ringraziarlo personalmente. E così annuncia questo atto. Annuncia questo. Quello è tutto quanto. E io vado avanti. Questo è quanto. Sai, questo è quanto. Questa è la finale. Stai festeggiando. Giusto, Steve. Sei tipo, sì, tutte le precedenti leggi erano in un certo senso per mettere insieme le cose. Ma è questo. Questo è ciò che ci consente di concludere ora. Ma ovviamente, molte persone interpretano male cosa significa incartare. Ma ma allora, sto ancora ascoltando. E poi lascia accadere questo. Sono seduto lì ad ascoltare questo e dico, questo è fantastico, questo è fantastico, questo è fantastico e questo è fantastico. E poi lui dice questo. Dice, oh, e il disegno di legge includerà legislativamente che il governo degli Stati Uniti ha il potere di esercitare l'esproprio su tutto ciò che è tecnologia non umana o corpi non umani, di cui David Grasch stava parlando. E io sono quasi caduto dalla sedia. Sto dicendo, stai scherzando? Stai scherzando? Io vado perché hai quasi lasciato cadere il tuo panino. Hai lasciato cadere il tuo panino. In altre parole, molte persone non capiscono quanto fosse importante quello. Una cosa è dire, guarda, avremo questo e lo faremo per impostare questo e lo imposteremo quello, ok, per ottenere informazioni, ok, rispetto a questa roba che, sai, quel Grasch ha accennato. Ma quando inserisce l'eminente dominio nel disegno di legge, sta sostanzialmente dicendo, oh sì, Grasch ti sta dicendo la verità. Abbiamo tecnologia non umana e parte di questa è nelle mani degli appaltatori della difesa e vogliamo l'esproprio su quella tecnologia non umana. Lo ha confermato. Lui ha confermato Grasch e ha forzato la mano dei contractor della difesa a reagire. E tutto questo accade il 14. E io dico, wow, ok, ora, 12 giorni dopo, tengono l'udienza alla Camera. E naturalmente, Grasch ora ripete tutto sotto giuramento. Ma il disegno di legge è già stato annunciato, quindi è molto più facile da gestire. In altre parole, se sei la Casa Bianca e qualcuno ti sta importunando tipo, che ne dici di questo? Cosa ti dici di quello? Guarda, guarda, guarda il disegno di legge Schumer, giusto? Il disegno di legge Schumer. Guarda, parla con lui. Stanno, stanno per ottenere questo risultato. Non siamo, non possiamo affrontarlo. Quindi, in altre parole, ha preso tutto il fuoco, fondamentalmente, dalla Casa Bianca e l'ha messo sul Senato, giusto? E lui ha anche convalidato Grasch e così via. È un momento enorme, uno dei grandi momenti politici della storia. Quindi questo ci avvicina molto di più alla linea di una yarda. Ok, quindi il linguaggio sale il 27 luglio e poi l'opposizione ha portato alcuni 300 LB linemen. Sai, alcuni davvero bravi. Sono i migliori linebacker e ha detto che non lo sono. Arrivare nella end zone, ragazzi. Impossibile. È così che, quindi, abbiamo avuto questa spinta. Tutti ne erano a conoscenza. Sono stati in grado di togliere tutti i poteri al disegno di legge in modo che ciò che è rimasto e che è stato approvato sono le basi, ma senza alcun potere di farlo. Ok, è il meglio che sono riusciti a fare. Avrebbero potuto provare a sventrare l'intero disegno, ma sapevano che sarebbe stato un errore. E così hanno sostanzialmente lasciato che, in un certo senso, ammettendo che, ok, stiamo prendendo tempo, e tiene a mente che ci sono anche delle elezioni in corso. Ecco, va bene. E così i repubblicani e i loro elettori, che includono molti appaltatori della difesa, beh, stanno dicendo, aspetta un attimo, se questo, se questa cosa va avanti, se non smussiamo un po' questa cosa, tutto ciò potrebbe accadere prima delle elezioni. E voglio essere chiaro. Se quel disegno di legge fosse stato come com'era pianificato, il che significa che sarebbe stato firmato a dicembre, giusto? Penso che avremmo avuto un comitato di intelligence del Senato a pieno titolo. Un'audienza, non una, ma una settimana con testimoni da 20-10-30. Sarebbe saltato l'embargo della verità alle stelle e il presidente Biden si sarebbe fatto avanti dalla Camera Est e avrebbe posto fine all'embargo della verità. E se fossi stato un repubblicano, non lo avresti considerato come una cosa positiva, non lo avresti visto come possibilità, perché avrebbe danneggiato le tue possibilità di vincere le elezioni. Non credi? Invece, probabilmente, avrebbe aiutato Biden a vincere le elezioni. Sarebbe diventato il presidente divulgativo. Avrebbe annunciato le informazioni più significative, confermandole per la storia. E così, c'era probabilmente un po' di politica lì. Io lo sono, è un mondo politico, nessun problema. E così hanno reagito e in un certo senso l'hanno fermato. E lui li ha surclassati. Il senatore Schumer li ha surclassati. Stava giocando in modo quadridimensionale. Stavano giocando a dama. E così hanno sventrato il disegno di legge. Si sono congratulati con loro stessi. Tutti erano sconvolti. E loro avrebbero potuto, sai, servire davvero i cocktail di gamberi. Schumer torna in aula al Senato, con fuoco e fiamme, e legge una dichiarazione nell'udienza. E molte persone non lo capiscono, ma non c'è nessun altro in quella stanza, a parte le persone delle pulizie. Lo stava leggendo verso una telecamera dentro il Senato. Lui è andato a finire negli archivi del Congresso. E ovviamente va in pubblico. E fondamentalmente, quello che dice è che non siamo contenti di di tutto ciò. Siamo arrabbiati con i nostri colleghi repubblicani, ma non abbiamo finito. Torneremo. Faremo questo. Sì. E così la difesa agli appaltatori stanno dicendo. Perché non si è semplicemente sdraiato o ha fatto una pausa. E si sono resi conto. Oh mio Dio. Sai, siamo stati in grado di sventrarlo per il motivo che faceva parte del National Defense Authorization Act. Giusto. E qualsiasi tentativo di spingere troppo, non farà passare la legge. Loro devono farla passare. L'NDAI ha dato loro una leva. E se lui, se lui lo ripresentasse come un disegno di legge autonomo, e se lo riportasse alla lettera come un disegno di legge autonomo, il Senato lo approverebbe. E poi andrebbe alla Camera. Non da solo. E dovremo rifare tutto da capo. Giusto. Dovremo rivedere tutta la dannata cosa e convincere Johnson a bloccarla. E così dicono, non va bene. E poi qualcuno gli ha dato un colpetto sulla spalla e ha detto, a proposito, tu sei consapevole che ci sono tonnellate di testimoni che si sono fatti avanti. Sei consapevole che il Comitato per l'intelligence del Senato può tenere un'udienza in qualsiasi momento voglia. Non lo puoi impedire. Gli appaltatori della difesa non possono impedirlo. Il Presidente del Comitato può tenere quell'udienza quando vuole. Chi è Mark Warner? Mark Warner ha sponsorizzato una delle legislazioni. E così il Comitato Intel del Senato potrebbe concludere la questione in qualsiasi momento lo voglia. E si rendono conto che sono nei guai. Stanno dicendo, oh merda, siamo nei guai. Ed è ancora piuttosto presto. Ok? Voglio dire, tutto questo è successo nell'ottobre dell'anno scorso. Le elezioni sono ancora a un anno di distanza. E quindi pensano, siamo fottuti. E così è stato quando hanno portato il linebacker da 400 libre e hanno detto, sai, a questo punto siamo sulla linea di una yarda, giusto? E così sta andando ed ecco cosa hanno fatto e ne risponderanno. La storia non sarà gentile. L'ultimo passaggio dell'Ave Maria molto infelice. Sean Kirkpatrick aveva già detto che se ne sarebbe andato dall'Aro. Facciamogli firmare un rapporto completamente falso che dice che abbiamo studiato tutta questa merda fino a 47, che è la cosa più assurda che abbia mai sentito in vita mia. E non c'è niente. È il rapporto con Don del ventunesimo secolo. E poi le cose si fermeranno e staremo bene. Ed è quello che hanno fatto. E indovinate un po'. È completamente esploso in faccia a loro. Perché? Per molte ragioni. Ma una cosa è che quando il rapporto con Don fu pubblicato nel 1969, niente internet, niente social media. No podcast army, niente Twitter, niente Facebook, nessun sistema di comunicazione globale, che ha fatto a pezzi quel rapporto, ma ha fatto guadagnare loro un po' di tempo. E quindi cosa succede dopo? Che sono riusciti a bloccarlo abbastanza a lungo. Quindi Warner, che so da fonti personali, vuole avere quell'udienza. Però sentiva che erano troppo vicino alle elezioni. Stavano diventando troppo vicini. Se non va bene, il mio presidente perderà. Non potè farlo. Non potè premere il grilletto. Ho anche scoperto che c'erano altre complicazioni. Di nuovo, questa è la linea di uno yarda. Diventa più dura. Voleva fare l'udienza, e ovviamente ci sono molti testimoni, ma alcuni dei più diretti. A chi si riferiva Grash, chi stava letteralmente lavorando sugli ETI, la tecnologia non si sarebbe fatta avanti. E il motivo per cui non si sono fatti avanti è che non pensavano che ci fosse ancora abbastanza protezione testimoni. E quindi non erano ancora disposti a farsi avanti. E data l'arena politica, puoi immaginare che le possibilità di ottenere un sacco di merda fossero ancora più alte perché è stata politicizzata. E quindi non si sarebbero fatti avanti. Questo è ciò che voleva. E quindi non poteva premere il grilletto. E poi man mano che ci spostiamo ulteriormente e oltre, semplicemente non sarà possibile. Quindi siamo bloccati sulla linea di una yarda. Le persone sono un po' frustrate. E quindi aspetto di vedere cosa succederà. E poi è successo. Giusto? La conferma è che siamo ancora sulla linea di una yarda. E segneremo questo touchdown. E cos'è che è appena successo? Ci aspettavamo qualcosa, ed è successo l'11 luglio con Schumer e Mike Rounds. Ricordi, ho detto del fatto che hanno capito, che hanno il rammarico, che potevano presentare una proposta di legge indipendente in qualsiasi momento? Sì, beh, hanno detto qualcosa di simile Rounds e Schumer. Rounds in testa, l'hanno messo sul tavolo l'11 luglio, non un atto come parte della NDA, ma un piano di emendamento alla NDA chiamato UAP Discloser Act o Fenomeni Anomali Non Identificati Discloser Act. È lì in cima e in questo momento. Ne parleremo tra un paio di minuti, ed è essenzialmente il disegno originale solo un po' attenuato. È non così lungo, è un po' più chiaro, ma è fondamentalmente la stessa cosa. Robert Garcia aveva già fatto qualcosa del genere. Ha lasciato passare un po' di legislazioni alla Camera, sapendo che non aveva alcuna possibilità. Ma non è che pensasse che ci sarebbe stata una proposta di legge alla Camera. Era solo il suo modo di dire al DOD che il loro rapporto di errore è uno scherzo. E questo è quello che penso. Ma questo è, questa è una cosa seria. E quindi quella legge è stata abbandonata l'11 luglio. Il motivo per cui il mondo non è già tutto su questo e non ci sono stati quasi articoli, e io li seguo tutti, è a causa degli eventi di due giorni dopo. Quindi la legge esce l'11, ma prima ancora che la stampa potesse occuparsene, noi abbiamo avuto alcuni nuovi sviluppi. Questa è la natura della vita e della storia, e questo è completamente oscurato. Sono cambiate molte cose, e la situazione politica è più dinamica che mai. E lasciatemi essere chiaro, la disclosure da parte di un Presidente degli Stati Uniti è assolutamente attesa. Ho chiesto, ho chiesto alle persone di essere pazienti. Ovviamente io voglio che sostengano questo emendamento. Ci vorranno ancora alcuni mesi prima che, prima che si decida che quell'emendamento verrà presentato. A quel punto sapremo i due candidati alla Presidenza. Entrambe le nomine saranno fatte, le convention saranno finite, la campagna sarà in corso, sarà intenso, molto, molto intenso, e il piano sarà lì pronto. E poi la domanda è, sarà approvato come emendamento in aula, al disegno di legge del Senato? E poi, giusto, lo sarà, beh, in realtà il Senato potrebbe effettivamente tenere una votazione su questo emendamento molto prima. Quindi non sono sicuro quando accadrà, ma sarà prima della riconciliazione finale. Quindi chi lo sa, potrebbe, potrebbero volerci settimane da adesso, ma comunque, passerà. E poi la domanda è, cosa accadrà nella riconciliazione tra la Camera e il Senato alla fine dell'anno? In effetti, è un emendamento alla NDA. Se viene bloccato di nuovo, allora Schumer quasi lo reintrodurrà sicuramente dopo le elezioni e forse anche il nuovo presidente lo prenderà come un disegno di legge autonoma. Quindi non si arrenderà. Si è impegnato totalmente per questo. Metterà fine a questo embargo e il Comitato di Intelligence del Senato dovrà tenere un'udienza, che è essenziale. E lasciatemi solo dire questo. Il motivo per cui l'udienza è così importante è che uno, è formale. Due, consente a molti importanti testimoni, non solo quelli, di testimoniare sotto giuramento. Giusto. È molto potente. Sarà guardato da milioni di persone, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. E quindi tira fuori tutto. Sarà chiaro e ovvio per tutti. E poi il presidente potrà farsi avanti in base all'udienza e non solo a come si sentiva in un dato giorno. Riconoscere il potere della testimonianza. Indica che hanno fatto alcune indagini e hanno deciso che doveva essere confermato. Conferma e annuncia che non siamo soli, o come vuoi dirlo, che siamo visitati da qualcosa. E questo è quanto di più non politico si possa ottenere. Ciò non significa che non sarà politicizzato in un certo grado. È il meno dirompente possibile. Ora, il fatto che il presidente che si fa avanti nella sala Est e dice di aver visto questa udienza, è chiaro che non siamo soli. Il fatto che quel presidente non lo faccia non significa che il presidente non lo sapeva dieci anni fa, venti anni fa, trenta anni fa. E la gente farà questa domanda. Loro diranno, ma guarda, quando lo hai saputo, beh, il presidente dirà, personalmente sospettavo qualunque cosa. Ci sarà un certo livello di residuo a mendacità, che avrà luogo perché è così imbarazzante. Giusto. Stai mettendo fine a una bugia lunga 77 anni. Quello, non sei tu. La maggior parte degli ideatori sono tutti morti. Il motivo è per cui le persone facevano solo il loro lavoro, ma è imbarazzante. Ma una volta che ci riescono, una volta che finalmente l'hanno fatto, rimarranno sorpresi di quanto generosi penso siano gli americani, con il fatto che, beh, non potevano semplicemente uscire allo scoperto. Avevano bisogno di mettere in atto questa struttura perché, una volta annunciato, e a proposito, un altro motivo per cui dovevano farlo è questo. Il problema, che il governo degli Stati Uniti dovrà affrontare, sarebbe altrettanto grave se non avessero fatto tutta la legislazione, se il presidente lo annunciasse e se un altro capo di Stato lo facesse. Se noi non facessimo questa legislazione, se noi non avessimo creato l'Aro, se non avessimo fatto tutta questa preparazione con tutto questo impegno e informato i membri del Congresso se Xi Jinping si facesse avanti e chiudesse questo embargo di lunedì. Il giorno dopo, il governo degli Stati Uniti sarebbe in una situazione terribile. Cosa farebbe? Voglio dire, non avrebbe niente, giusto? Nessuna legislazione, nessuna freccia, niente di niente. Si tratta solo di rispondere a un miliardo di domande, tutte difficili, e le risposte sarebbero terribili. E il governo degli Stati Uniti sembrerebbe completamente balordo. Quindi lo hanno fatto. Glielo dico da 20 anni. Ho fatto interviste dopo interviste e ho detto ragazzi. Sai, sono per lo più ragazzi lì al DOD. Sapete che ci sono altri capi di Stato in questo mondo che, a meno che non siano nel tuo libro paga, possono rivelarlo domani. Sei pronto per questo? E la loro risposta è stata, cosa? Non accadrà, non lo faranno. E più ci avviciniamo, più è probabile che un altro capo di Stato potrebbe dire, Ehi, mi intrometto. Ma se un altro capo di Stato lo fa ora, siamo pronti. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire la domanda di diversi milioni di americani. Voglio tutto. Lo voglio domani. Lo voglio assolutamente pulito. Voglio che tutti quelli che non lo fanno correttamente vadano in prigione. Qualunque cosa. Giusto. Siamo fondamentalmente pronti. Anche se Xi Jinping si fa avanti. Ma abbiamo ancora bisogno di quella legislazione. Sarebbe bello. E io vorrei vedere il nostro presidente andare per prima. Se questa intervista ti è piaciuta, metti un like ed iscriviti al canale. Perché la Disclosure continua. E io vorrei. E io vorrei.